è passata la news completamente inosservata vi ricordate quanto vi dicevo ieri di massimo giannini l'opinionista quello che otto e mezzo bene proprio lui bene era alla stampa c'è andato improvvisamente si è stato licenziato in realtà per motivi professionali meglio evitarlo oppure di missionario ma di missionario di così di punta in bianco vuol dire che è successo qualcosa di grosso quindi l'azienda che cosa dice dice guarda facciamo che tu ti dimenti oppure facciamo che sciogliamo il contratto il nostro apporto e basta però se te vai a dire qualcosa ci vediamo nelle sedi opportune e magari anche viceversa ma è un'ipotesi indovinate un po invece questa ufficialità che ho letta nel fatto quotidiano ah beh se a voi in alto di 6 per cento mi iscrivete attivate la campanella per ogni aggiornamento infatti è gratuito ragazzi non preoccupatevi qualcuno mi chiede se ancora per caso si paga l'iscrizione per quale motivo paghi l'abbonamento che ricevono i servizi a tuo rischio il pericolo è super grazie trovate qua sotto allora sentite un po l'ufficialità è arrivata per alcuni notizia drammatica chiaramente da parte dell'opposizione perciò dico in titolo notizia drammatica ma dramma non è allora in parole povere il licenziamento di un dipendente da parte di un'azienda si può anche tradurre per legge come dimissionario ma perché questo per quanto riguarda il curriculum dello stesso dipendente e anche per quanto riguarda la reputazione dell'azienda un'azienda che licenzia le persone la gente ci pensa due volte prima di andare perché dico a cavolo di licenza autostima pari a zero allora mi vado a cercare qualcos'altro e invece per quanto riguarda il dipendente dice licenziato minchia il dipendente che avrà combinato mai è però se magari dovrà continuare a lavorare no a prescindere dall'età che abbiano che fa va a dire sono stato licenziato per tizio caius sembroni perché ho fatto questo questo e quello e quell'altro no allora succede che no mi sono dimesso perché non andavamo più d'accordo fino adesso ora è legge ora si può fare ma che c'è tanto di drammatico guardate che è una cosa buona è una cosa buona sia per l'azienda e anche per i dipendenti beh oddio dipende quanto grossa l'abbia fatta il dipendente o quanto grossa la faccia l'azienda dipende non è sempre sempre così eh ditemi la vostra questa nuova legge che è un'altra nuova legge Grazie.